Ma noi vogliamo ovviamente concludere il percorso delle riforme costituzionali, vogliamo che le persone, che i cittadini possano scegliere con il voto sull'istino alle regionali il loro senatore, vogliamo quello che volevamo nella prima lettura. E' certo che c'è preoccupazione, si parla di 32 senatori del Partito Democratico che non vogliono votare la riforma, è normale che in questa situazione aver precipitato in aula questo provvedimento sia un'iniziativa che può avere un senso soltanto se si ha in tasca una grande mediazione. Noi siamo non soltanto preoccupati ma non riusciamo neanche a comprendere se questa mediazione effettivamente avrà luogo oppure no.